E adesso parliamo del trasferimento di beni dello Stato dal Demanio alla regione, quindi agli enti locali e in studio Roberto Reggi, direttore generale dell'Agenzia del Demanio. Buongiorno, benvenuto. Lei è in Sardegna oggi e domani per incontrare gli amministratori locali e firmare protocolli di intesa che consentiranno anche la valorizzazione di beni archeologici e culturali in tutta l'isola. Sì, beni che lo Stato ha interesse a valorizzare, ma soprattutto siamo animati dallo stesso spirito che gli enti territoriali hanno, come Stato dobbiamo utilizzare al meglio i beni dello Stato, razionalizzando gli spazi, facendo in modo di pagare il meno possibile in quanto a locazioni passive, cioè affitti passivi, quindi concentrando negli immobili pubblici le funzioni pubbliche. E con i comuni, con la regione abbiamo già in corso una serie di interlocuzioni che ci porteranno appunto a firmare degli accordi. Poi l'altro tema sono appunto le valorizzazioni, valorizzazioni che possono essere quelle di, insieme ai privati, per esempio, completare l'utilizzo ottimale di beni di grande pregio, come capo spartivento, per il quale appunto andremo a sottoscrivere la valorizzazione dell'ultimo compendio che consentirà a quella immobile di essere destinato completamente a una valorizzazione turistica alberghiera. Così come andremo a valorizzare, insieme alle amministrazioni locali, la necropoli preistorica Angelo Ruiu, che appunto andremo a trasferire agli enti territoriali, così come andremo a valorizzare gli orti di Garibaldi in Caprera, con progetti di valorizzazione che anche il MIBAC, il Ministero per i beni culturali, dovrà asseverare, cioè dovrà in qualche modo garantire. Ecco, entro questa settimana inoltre le regioni e i comuni devono indicare al demanio quali sono gli immobili che vorrebbero vendere. Ci sono già delle indicazioni per la Sardegna? Sì, perché un altro modo di valorizzare ovviamente è quello di vendere i beni, ma in questo momento gli enti territoriali fanno molta fatica a vendere da soli questi beni, e quindi lo Stato si mette al servizio degli enti territoriali raccogliendo le disponibilità di beni di interesse, che abbiano un valore significativo, almeno di un milione di euro, con destinazione turistico alberghiera prevalentemente, perché appunto lo Stato possa metterle in evidenza pubblica verso investitori internazionali, nazionali e istituzionali, quindi dando grande visibilità a beni che altrimenti rischiano di essere in un circuito troppo stretto. Quindi vedremo insomma come si comporteranno anche gli enti locali, in questi due giorni avete questi incontri, abbiamo una serie di incontri anche insieme alla regione, siamo al servizio della regione e degli enti territoriali per fare in modo che questi beni dello Stato, delle regioni e dei comuni vengono valorizzati e utilizzati dai cittadini. Bene, grazie a Roberto Reggi, al direttore dell'Agenzia del De Manio, noi andiamo avanti con il nostro giornale.